E ci spostiamo ad Isernia nella notte. Brindisernia ha riunito i cittadini in piazza per accogliere il nuovo anno. Un successo per l'evento nella cittadina Pentra, simbolo di rinascita e continuazione. Ma vediamo. Isernia è questa, non è quella dimenticata, non è quella che stava in silenzio. Isernia aveva bisogno di stimoli, Isernia aveva bisogno di magna storia, Isernia aveva bisogno di persone capaci di movimentare la piazza. Isernia aveva bisogno di ritrovare se stessa, Isernia si è ritrovata, questa è Isernia. E' la felicità, l'espressione di voler ricominciare, quella che dice io ci sto e non voglio più rinunciare ad essere felice. Isernia ritornerà ad avere il ruolo che aveva. Questa è la piazza di Isernia, la piazza della felicità. La catena umana che ci sta da Isernia sarà indimenticabile per sempre e ogni anno sarà sempre di più. Tanti auguri a tutti e anche a queste emittente che ci ha sempre seguito, grazie. Auguri a tutti, queste sono solo le tinte chiare, le tinte chiare. L'anno prossimo saranno apoteosi. Auguri. Benissimo secondo le aspettative, questo è quello che vogliamo, una città felice, una città che gioisce e una città che partecipa. Ci vediamo a magna storia. Ringraziamo tutti, tutti quelli che hanno partecipato, la città e tutte le autorità che sono state con noi. E' un grazie particolare ai Vigili Urbani. È andato tutto bene e il timore era soprattutto quando si saremmo riuniti in piazza perché la catena è partita un po' in sottina però si è sviluppata la grande. Abbiamo contato che croce almeno 1.200-1.300 persone sicure più tutto il contorno. In piazza non è successo nulla e addirittura i fuochi che ci sono stati sono stati esterni, non hanno toccato le persone e non ci sono stati problemi di grande linea. Le persone che hanno portato addirittura con sé le bottiglie ce le hanno consegnate e noi abbiamo brindato per tutti. Non è successo nulla, meno male. Come responsabile della sicurezza il timore c'era, indubbiamente. Però le forze dell'ordine erano con noi, le due vigilesse che hanno messo a disposizione il comune e la polizia stradale che è stata con noi. Quindi meglio di così non poteva essere. Questa è la risposta più bella che potremmo avere. Quindi non ci aspettiamo, anzi sono solo le dinte chiare, sono solo l'inizio. Quindi io penso che più andiamo avanti meglio sarà. Questo è tanto. Un augurio a tutti, i Sernini e non solo, a tutti quanti che il 2020 sia un anno straordinario per tutti. Tutto qui.